Laurente, gol 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1 il Milan a San Siro contro il Sassuolo, 4 a 1, dovete vergogliarvi, Rossoneri in campo, dovete vergogliarvi, non avete rispetto per noi, che vi abbiamo, 4 a 1, Laurente. Ragazzi stiamo assistendo a un disastro del Milan che non aveva veramente nessun tipo di avvisaglia, perché un conto è perdere, ma perdere così è veramente incredibile. Luca, Luca, Sassuolo dal canto suo è un trionfo questo. Dentro a Lucio, 4 gol al Milan ragazzi, siamo non contenti di più, poi tra l'altro vi lamentate di Calabria, ma Calabria con laurente non lo vede neanche partire, ma è decisamente più veloce, laurente non lo fermi, bisogna prendere dei provvedimenti su quella fascia, ma dobbiamo farlo prima del secondo tempo, 4 a 1.